Signori e signori, questo è il video della nonna, cosa farà? Secondo me farà qualcosa di bene di me, però vedremo, vedremo, io l'ho già fatto, quindi soggiarmi il risultato, lei ovviamente non l'ha ancora visto, però è una reaction dopo, però di fianco a lei vedremo ovviamente, quando avrai finito dirai ho finito, io fino a quel momento lì ti guarderò. Ok, allora io cosa ho fatto, ho fatto una fra lì, poi devo. Stiamo già andando bene, alla grande, velocissima, io commento un po', lei non commentava perché in fondo era concentrata. Se stai zitto riesco a concentrarmi, se no niente. Arrabbiata daga, arrabbiata. Raga comunque ha detto, giustamente ha detto che è meglio questo che lo schercia, giustamente, la bozza non è piaciuta, non è piaciuta. La bozza è una proprio raviata. E la sforciglia, la sforciglia, devi chiudermi. Ok, quando vuoi puoi girare. Qui sta bollendo, eh. Allora, passiamo per la temperatura. Quando vuoi puoi girare, la spatolina, ah io non lo devo vedere, quindi devi girarlo. Io adesso quando ci sei, dimmelo a finire, non ci sei. Allora, metti via. Quando ci sei, dimmelo io, io mi faccio. Secondo te è cotto? Dimi te, io non dico niente. No, però aspetta, 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 aspetta. Come aspetto? Aspetta, io devo andarmelo. Devo andarmelo. Non è ancora cotta. Secondo me è bellissimo. Secondo me è meglio il mio, eh. Il mio ha fatto un errore grosso, cioè, a vederlo così sembra abbastanza buono, l'avevi fatto, poi... Però comunque ci andava benissimo, è una barba bianca, questo qui sembra un po' una... Voglio aspettare che... Te non ridere, perché guarda qua, se devo poi fare un pranzo di Natale e fare questo, io ci metto, comincio già sei mesi prima. Vai, 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 vai in pace. Chiudi, girala così, da un giro. Adesso vediamo cosa succede. Adesso faccio un disastro. Ma sai? E vediamo i risultati, secondo me, per essere la prima volta, può essere... Poi vediamo. Attenzione, se non vuoi ricevere un meca spoiler, beh, vai a vederti prima questo video e poi ti guarderai direttamente il finale. Raga, siamo a fine video, siamo alla conclusione. Chi avrà vinto? Guarda che pasticcio che c'è qua, c'è di tutto e di più. Abbiamo finito, la sfida. Ok. Quale sarà la migliore? Prima, vogliamo la prima, la mia, e farei la reaction, vedrai cosa ne pensi. Questo è il retro, il retro, il retro, vedete il retro? E questo è davanti. Eh, è uscito un po' la sfida. Raga, si è bruciata completamente. Io ci ho messo passione, ci ho messo tantissimo tempo a farla, e però è finita malissimo. Quindi direi che la mia potrebbe essere una sconfitta, dipende dalla sua, la tua è venuta meglio. Ma te farla vedere la parte... Io potrei farla vedere da questa parte, ma in realtà questa è il risultato, bruciatissimo. Vediamo la sua. Signori e signori, avrà vinto la sfida. Allora, devo dire che qua è un po' storsa, però nel senso che... Però ci sta, eh, c'è il cappello, la testa, sembra che non abbia un cranio, però bene. Guardate che non è male. Questo è il risultato della nonna. Abbiamo... No, l'ho rotto, l'ho rotto, piano, piano, piano. Abbiamo il mio, completamente bruciato, e il suo, perché si sta rompendo, però va bene. Chi vincerà? No, però non... È scoppiato, raga, è scoppiato più, non ce la fa più. Ok, andiamo bene. Ci abbiamo provato, la sfida è finita, è stata la sfida. Per quanto mio non mangio pranzo. Vabbè, è stata la sfida abbastanza tosta, ecco, cosa da dire. Bello di... Io non lo so, io... La domenica e anche il martedì. Ok. Io vi ricordo, domenica parliamo di serie, come stasera parleremo di una nuova serie, invece martedì parliamo di un luogo, di viaggio per il mondo, abbiamo parlato del Madagascar, l'Ettoglia, la Finlandia e poi anche della Corte del Sud, mentre il giovedì continuiamo il nostro Vegaturales. Io vi ringrazio ancora ancora. Buon Natale! Buon Natale! E... Proseguimento, buon anno e... Buon anno, raga, buon anno! E noi ci vediamo con la nonna, non lo so, scopriremo, devo spiegare voi altri video, dato che vuole già partecipare ad altri video. Vi ringrazio per la visione. Adesso vediamo questo, poi giudichiamo. Basta! E' finito! 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 Adesso faccio una crepe per me! Grazie mille! No